Ciao a tutti ragazzi, sono BegoniT e siamo in un nuovissimo video come sempre e adesso andremo a fare il box opening più grande del canale su Brawl Stars quindi siamo nel racconto di Bart ciao ragazzi dove andremo a shoppare il pass sopra come vedete tutto bloccato però abbiamo abbastanza gen si e infatti il pass costa 169 e in più andremo a shoppare Bell che è il nuovo Brawl Stars eccola qui ragazzi che andremo inoltre a maxare si e la skill di Colta che era Colto colto pistolero si chiama si, pistolero e inoltre tutte queste ricompense che dice qui ragazzi ah bella Bell, la skill inclusiva eccetera 5 metri gas comunque ragazzi per questo box inoltre è lo speciale 1800 si esatto 1800 mancano 200 iscriviti al 2000 mi raccomando commentate qualcosa su quello che potremmo fare esatto e niente ragazzi guardate perché ho lasciato questi questi lì era bello niente ragazzi lo facciamo insieme mandalo no che stavo 3 2 1 1 allora conferma acquisto vuoi davvero acquistare Brawl Pass? no 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 raga Brawl Pass sbloccato con con 33 33 33 33 33 33 33 33 33 raga io io non faccio altro che iniziare proprio col pisante bam bam ragazzi bam guarda guarda partito screen ma cosa so forte screen nato anche perché screen nato raga Bell di radice nuovo broder cromatico 5 su 6 Bell sa farsi rispettare dalla sua banda e lascia scocciato ogni avversario con il suo elettrofucile ragazzi beh beh ah inoltre ho questa che cioè con 15 battaglie con Bell va bene dai allora no iniziamo a maxar a maxarcela allora Bell iniziamo perché prima del box bisogna maxare io direi con le reazioni di Bell ah no ho sbagliato eh sì adesso attendo diamo tutta a Bell per il momento raga ok andiamo ancora a migliorarla già che ci siamo può darsi che c'è la maxicama può darsi però perché altro ah vero bisogna fare così 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 ah sono povero scusate adesso faccio una bella capatina con i 100 eh ci arrivo no ancora non ci arrivo sono povero eh ecco altri 100 hanno bene facciamo facciamo però alla fine maxiamo dici no perché almeno poi possiamo possiamo trovare i suoi gadget e le sue abilità stellari ah è vero quindi le mettiamo pure la possibilità quindi adesso prendiamo altri 50 che gli diamo sempre a coletto no scherzato andiamo a Bell diamo 100 di oro diamo altri 100 di oro prendiamo 100 pop up che gli diamo sempre a lei e poi adesso andiamo in ultra a maxarci raga dovrei a coletta no per 4 povero no no raga ci sono rimasto malissimo ci sono rimasto malissimo le motri andiamo a prendere dopo e la maxiamo a 6 tra poco raga la maxiamo a 7 ci dovremmo avere altri comunque commentate con hashtag salutami se volete essere salutati nel prossimo video importantissimo raga che è da tanto che non metto sta cosa quindi hashtag salutami importantissimo raga perché vi giuro che saluto tutti quanti ecco importante quindi pubblicità gratis no 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 380 no ci sono rimasto di un male no e vabbè allora adesso andiamo a risquadre tutte le mot esatto con calma proprio con calmissima ecco no aspettate ok ragazzi adesso discuteremo la sua prima lezione c'è quella Felicia eccola qui discossa poi quella triste perché lei è triste poi continuiamo con arrabbiata che è veramente carina poi col codicino che è caninice ma inoltre è epic epic poi col pollicione che è rara attenzione poi abbiamo con la gocciolina che è epica e poi basta ragazzi io direi no prima abbiamo il coltone pistolero questa raga no 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 dissociatevi su pistolone dissociatevi dopo questo video mi raccomando eccolo qui il nostro coltero il vecchio pistolero vecchiaccio 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 niente ragazzi adesso io direi di procedere con le casse enormi no 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 abbiamo questo scusi è vero lei non ragiona quindi ragazzi adesso apriamo il pacchetto reazioni raga si vuole allora io scommetto una epica e due rare unesto cioè comuni rare sarebbe no rare c'è proprio una epica e due rare no 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 raga raga giuro giuro quella di beat la cercavo da tre anni è cioè guarda quanto è bella è carino ah abbiamo trovato nita felice comune beat con la faccina che raga è bellissimo e su col pollicione che è è unesto carino è raro dai dopo in casa faremo vedere tutto quello che troveremo adesso finalmente con ste casse enorme ok però non facciamo le megacasse facciamo prima le casse enormi poi le megacasse prima tutte enormi e poi le megacasse ok faccio riservare perché ho riscosso solo io fino adesso allora regola regola beh regola ripetuta e ripetuta 40 oro sotto allora sotto hai 40 di oro assicurato eh sì altrimenti sopra non è proprio assicurato però c'è bella però abbiamo subito trovato bella aspettate un attimo quanti soldi ho e non la max mi sa perché sì mi serve ce ne servono altri circa 40 ok vabbè dai una cassa a testa vai facciamo la parte vediamo eh e forse 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 forsino forsino eh allora bello ce l'aspettavamo bello però buono buono 45 poi perfetto adesso mi faccio la gianna oh allora troviamo possiamo guardate faccio una scommessa faccio una scommessa secondo me in questo video aspettate intanto seleziono i mot dicevo che secondo me in questo box opening proveremo il gadget di bello attenzione attenzione le scommesse raga arrivano le scommesse noi ne abbiamo solo 11 ancora però piano piano adesso per me il gadget di bello lo troveremo 67 9 9 9 e 9 perché ha cliccato il gratuito va bene tocca a me adesso eh ok raga 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 2 schifo allora io penso di no io pensai si non vorrei eh volevi no ho fatto male comunque 25 belle me li danno solo a belle io sono il bambino comunque non penso che che le riusciremo a ammazzare perché ha ancora voglia ma soprattutto non troveremo niente c'è c'è il box opening più sfigato del canale si infatti noop comunque raga bello va bene tocca a me raga in questa cassa abbiamo 1 di oro e 0 schifo cioè 85 occupato in modo male però Byron non è ancora uscito Byron dai tocca a lei la penultima penso boh no no ce n'è un'altra stue scommetto bella no no Bibi è Bibi ancora non ho maxato è vero vaga vai Barte troppo oro devo trovare troppo oro insomma insomma Sandy e Bibi Bibi 12 molto nice e l'ultima l'ultima cassa enorme bacon e T apre niente vabbè dai allora andiamo a vedere le percentuali ah è vero le percentuali ce le avevo completamente scolte sono povero quindi oh attenzione ma no ciruzzo non lo so devo vedere per aiutare di shopparcela vediamo se va male la shop ok se va male il box winning Bart shop la cassa che vediamo nel negozio dai 1500 allora percentuali ragazzi 96,5 per tutto cioè tranne robe 0 0 0 0 2 6 1 4 per i mitici perché mi serve ringhio 0 0 452 per i leggendari onesto 1 0 472 per le abilità stellari quindi quello che più conta è la percentuale per i leggendari quello che più è importante che è 0,06 approssimato e poi aspettate gadget 2,0944 di altissima e 3 scommetto che ci scappa un gadget in generale però in particolare quello di belle io scommetto una abilità stellare inoltre voglio farvi vedere penso che molti la conoscevano questa cosa che qua sotto ci sono ah un easter egg un easter egg ci stanno le cose queste in realtà qualche tempo fa è predictava l'arrivo del di colette cioè di quella dei souvenir capito raga vabbè dai la prima la cassa del 2 ragazzi addirittura regola dei 6 o oltre raga o oltre skip per favore 6-5 skip nada nada bello 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 ma neanche i doppi oggettori tocca il piano parto pazzo furioso raga è scappato è scappato doveva scappare doveva scappare no 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 raga raga questo box opening è fatto questo qui se trovo un brawler hai 3000 iscritti esco la faccia raga ci vado giù pesante proprio vai se esce un brawler hai 3000 iscritti addirittura quale te lo hai maxata se esce un brawler se esce un brawler un brawler un brawler hai 3000 iscritti esco la faccia bb30 piano raga che vedere i commenti ovviamente non guardate pazzo furioso questa raga è la verità santo esplosiva di time è quella che ti metti la dinamite sotto salti quella se metti la dinamite sotto tu salti cioè raga dame mai capito a serrare salto esplosivo dopo l'andremo pure a provare no si no si dame mai chi riesce a scavalcare l'onda d'urto delle sue esplosioni e a scavalcare e così gli stauri quindi salto esplosivo e adesso tocca a me casello 34 ma sicuramente 5 iscritti sicuramente 5 iscritti no raga io io dico 4 4 iscritti 4 iscritti vai 4 iscritti 3 iscritti raga ma siamo seri 3 iscritti della cassa c'è raga 3 iscritti della cassa ma come c'è ancora peggio io ho detto 4 iscritti mo se scappa se fosse scappato il luminoso sarebbe stata una cosa tremenda no 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 raga con 3 iscritti l'ultima guardate bene ultimissima vado come sempre pazzo furioso no no non glielo faccio fare il pazzo furioso 3 2 1 vai a me una biglia sarebbe un bravo dai qualcosa beh adesso ci vorrebbe una musichetta sed violina fatta raga con questo box oven con 1329 monede aspetta io direi di andarci a shoppare 1500 no 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 raga ce ne andiamo a shoppare ce ne andiamo a shoppare no allora raga abbiamo trovato salt esplosivo adesso vi farò vedere e poi abbiamo trovato dinita che esplosivo abbiamo trovato questa no aspettate abbiamo trovato questa che ride poi abbiamo trovato stiu 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 abbiamo trovato lui che fa il pollicione ciao bravo e infine abbiamo trovato quella mia preferita scusate se lo dico però è la mia veramente la mia preferita allora io di bitto che è felice comunque ho perso la scommessa del gadget di di bea e comunque la faccia ai 3000 forse non la esco raga adesso vi farò vedere cos'è il salt esplosivo di dine mike ah ma questa qui è quella lì famosa usare dai propria aspettate ci voglio provare no aspettate raga ci devo fare il trick dai no devo fare un rapido preciso fai pena sei cattivo tu no come raga ci devo fare scommetto che se ci provo io ci riesco no devo facer oh shoot adesso lo voglio fare con la super raga ci provo solo una forse ci provo no quasi aspettate questo fa di nuovo no ehi devo lanciare la super cioè quindi salto salto e poi scaglia la super no no eh aspetta lo faccio direttamente con la super il secondo beh dai insomma insomma e niente ragazzi quindi in conclusione commentate con hashtag salutami se volete essere salutati nel prossimo video e cosa importantissima che ci ho fatto anche il post più di una volta scrivete cosa posso fare dei 2000 iscritti perché sono indeciso premetto che la faccia non la faccia non la faccia non la faccia questa qui ecco però raga possiamo far uscire la voce perché questa non è la nostra voce vero? eh no Adesso farò un bel trick qua Oppure anche un'intervista d'Opia Potrebbe starci Però quella lì Cioè è troppo poco originale Qualcosa Proponete qualcosa di originale Che possiamo fare per i 2000 iscritti Su voglio Comandate nei commenti Però deve essere proprio Originale No Ok adesso direi che possiamo riuscire L'ultimo trick E poi riusciamo Guardate eh Adesso vi faccio vedere la proaggine La prudezza Pam Pam Ui Pam No Pam No Ok qua Qua Ui Adesso raga No l'ultimo Ultimo Ma che cacchio è fatto Ui Basta basta Ok basta Va bene ragazzi Niente Noi dopo questo box homing Penso sia il più grande del canale Sì Vi salutiamo È il più grande Ma non è il più sostanzioso Raga Guardate quante missioni ho da fare Tè Non vorrei dire Io ragazzi inizierò a fare tutte queste missioni E Niente Non so se usciranno altri video sul canale Sempre sul pass E noi con questa bell A livello 7 Vi salutiamo E niente Ci vediamo in un prossimo video Ciao Ciao Ciao